La spiaggia, la casca, parcheggio libero, sassi misti grossi e piccoli, però calpestabili insomma. L'acqua è bella trasparente, non è così chiara come altre spiagge perché i sassi sono un po' più scuri, sono le 10 del mattino e c'è già parecchia gente, c'è il barrettino dietro, parcheggio a non finire, qualche gioco con i bambini sull'acqua e dall'altra parte del paese vedo una pineta, ma andiamola a vedere come si può fuori dal paese. Grazie Grazie Grazie